Mi devi dire qual è quello fatto bene e quello fatto male? Questa è la mappa fatta bene perché quando la B-Bot ha girato è rimasta sempre nella casella di quando è andata avanti invece questo sembra come se quando la B-Bot gira va avanti di un'altra casella ma resta sempre in quella B-Bot era andata avanti prima però ha solo cambiato direzione non è che ha cambiato direzione avendo fatto sempre un altro passo avanti Vediamo se quello che lei ha disegnato va bene o non va bene se è vero che quando gira rimane nella stessa casella o fa un passo avanti Allora facciamo, programmiamola, accendiamola, poi quando può accesa che si deve fare? Si deve cancellare la memoria Allora gli facciamo fare un passo avanti e poi la facciamo girare a destra Ma c'è un frumo? Quello deve mettere sotto Questo ma con questo? Lo vedi c'è il pezzo? Questo sì Dov'è? È un pezzo Ma con questo? No, no, no Anna, non torna Non torna No, no No, dobbiamo decidere il percorso Quale percorso vogliamo fare? Avanti Una sinistra No, a sinistra avanti Allora Ti devo dire sud Allora, sud Est Dove si deve arrivare? Si deve arrivare alle cascate e poi al tesoro Sud Est Est Dimmelo mentre lo fai Allora Allora va verso Est Poi gira e ora va verso Il corso gli vuoi far fare per andare alle palme e prima passare dalla torre Maya Andare indietro Andare indietro Indietro Adesso si gira a sinistra e va avanti Allora, ora dove va? Verso nord, verso sud, com'è? Va verso sud, sud, poi si gira verso ovest e poi va avanti a ovest Sud, vero? Sud, ora gira verso ovest Andare alla nave e poi andare al tesoro Devo andare Prima a sinistra Poi passa a parte Poi a sinistra A sinistra Poi avanti 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 Avanti, avanti Prima Verso dove vai? Verso sud, verso est, verso ovest? Dove è? Brava Prima verso sud, poi verso ovest e poi verso nord Vai Ora sta andando verso? Che è? Dove? Dove era rispetto alle... Ah Al tesoro Che percorso gli fai fare? Verso nord Devo farla girare a... Ministra E poi quanto passi? Tretto Proviamo Tre passi a nord Son ma c'erano le mambe a mano mi spiega lei anche su avanti 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 un bambino un bambino un bambino due tre uno due 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 si sta arrivando deve andare abbiamo detto alla nave senza passare dalle cose deve andare a te bene allora deve fare tre passi indietro e cioè deve andare da nord verso a sud bene poi ti vuoi ti vuoi fermare lì? vuoi programmarla fino a lì? no no a ovest poi ricordati che non deve passare dalle palme a ovest e tre del mare e tre a nord prova provare un tre uno due tre tre uno due poi poi parla più forte perché non si sente ragionati 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 tocca a te tocca a te prima di tutto si deve cancellare la memoria poi poi dobbiamo andare dove dobbiamo andare dimmi dove le palme non si deve andare alle palme e si deve arrivare dai danger poi bisogna andare a destra se te pensi te fai quello che pensi dove sono i danger sono da questa parte si fa così fammeli vedere qua non deve andare dentro l'acqua perché altrimenti affonda vai fai la programmazione che vuoi allora dobbiamo avanti fai un attimo eh allora si fa due passi in avanti in qua un altro passi in avanti non ci senti non ci senti lo ha sbagliato si l'ha fatto sbagliato sbagliato si l'ha fatto indietro e andare a ove sbagliato non lo fa non lo fa bravo bravo si cancella la memoria bravo dopo si va a destra la destra corrisponde a est o ovest in questo momento ovest vai giusto bravo sei più bravo del robot cesto no è andato sui danger